scegliate Nightbringer quindi andiamo a fare un Nightbringer solo che qua a parte che serve un'altra pistola che vengono qua? che vengono qua? mmm non è che cosa prima non è non è non 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 questa forza si è Hmm... No no... 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 Adesso sono da prendo tutte e due... Ho forse più questa... Allora... 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 Porca puttana. Grazie a tutti. 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 a tutti.